Assessore Guidesi, a Monza la tappa dell'evento itinerante di premiazione delle attività storiche Regione Lombardia conferma un grazie a queste imprese che fanno la storia del territorio. Oggi a Monza in un posto, in un luogo storico, in un luogo bellissimo, tanto quanto sono storiche belle le attività che premiamo sul territorio che in tutti questi anni hanno avuto un protagonismo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale e grazie oggi di Regione Lombardia a loro ma soprattutto un augurio per un futuro prospero anche per i prossimi anni. È una manifestazione molto importante per il territorio di Monza e Brianza e la Regione Lombardia è molto vicina ai commercianti che hanno raggiunto un'anzianità lavorativa di 40 anni, oltre i 40 anni quindi aziende storiche e un riconoscimento alla loro passione e di questi anni lavorativi. Quindi per noi è un onore essere qua, per me è un onore essere qui e dare questo riconoscimento che poi dà accesso a uno sviluppo ulteriore insieme alla Lombardia. Grazie per questo riconoscimento. In primis Regione Lombardia per averci dato questa opportunità di ricevere questo premio. gratificandoci di questa nostra attività iniziata nel 1959.